Un ragazzo esemplare, un uomo esemplare, cioè il top. Ho perso mio padre 11 anni fa, lui l'ha sostituito e amava, amava il suo lavoro, sempre l'arma, amava l'arma, amava la famiglia, amava il contesto, amava aiutare le persone. Era anche uno di quelli più bravi, appunto, con un po' più... Sì, sì, ci metteva il cuore su qualsiasi cosa che facevano.